Ciao a tutti amici collezionisti e bentornati nel canale, io sono Emiliano74 e oggi, prodotto dalla McFarlane Toys nel 2004 e appartenente alla serie Spawn, The Classic Comic Covers serie 25, abbiamo qui con noi il Creech. Bene, prima di vedere il nostro Creech nel dettaglio vi ricordo che nel canale è attivo un fantastico giveaway, si sta quasi per concludere ragazzi, quindi affrettatevi a partecipare, vede protagonisti questi tre splendidi Funko Pop, qui in alto vi lascio la scheda che vi riporta direttamente al video del giveaway. Poi vi ricordo di visitare Mondo Action Figure, lo store numero uno per noi collezionisti, dovevi trovare tantissime action figure e tutto ciò che riguarda la nostra passione, qui vi lascio il mio codice sconto Emiliano74 che vi darà l'opportunità di risparmiare il 5% su qualsiasi cosa acquistata all'interno dello store. E poi ragazzi vi ricordo anche di visitare la mia pagina Facebook, nuovissima, aperta da poco, all'interno troverete contenuti che non trovate ovviamente nel canale YouTube, quindi anteprime, sugli acquisti, sulle recensioni e quant'altro. La pagina Facebook si chiama Emiliano74 e in descrizione trovate il link. Ok, siamo pronti ragazzi, allora io ho preso qualche informazione su questo personaggio perché ovviamente non conoscendo il fumetto non so quale sia la sua storia. Comunque, il Critch intanto è una serie di fumetti americana di tre numeri creata da Greg Capullo nel 1997, seguita poi da una successiva serie di altri tre numeri nel 2001. Ed il nostro personaggio prende proprio il nome da questa serie di fumetti dove si racconta che fu creato dal dottor Batu, uno scienziato il cui unico scopo era quello di aiutare il mondo attraverso la ricerca genetica. Quest'ultimo, in onore di sua moglie che morì durante il parto, decise di creare vite dalla morte utilizzando centinaia di feti abortiti. Nacque così una creatura apparentemente mite senza nessuna concezione del bene e del male, ma il gruppo che finanziò il progetto aveva scopi ben diversi per la creatura. Volevano creare l'arma suprema, dotandolo anche di armi sperimentali. Il resto lo trovate nella prossima puntata. Scherzo, il resto lo trovate su Wikipedia, come ho fatto io. Comunque ragazzi, andiamo a vedere nel dettaglio il nostro Critch, la nostra figure. Prima vi faccio vedere veloce veloce la sua confezione, che è molto grande. Come vedete, essendo lui una versione deluxe, il box è veramente molto curato, è un po' rovinato, ma questo lo sapevo quando l'ho acquistato, non è un problema. Qui la vetrina anche si è mezza scollata. Comunque eccolo qui, qui vediamo un'immagine della nostra figure, con un artwork che qui la ritrae. Eccolo qui, vedete, si estende anche nella parte superiore, con la scritta The Critch Deluxe Box 7, McFarlane Toys, Spawn.com. Qui, come vedete, c'è anche l'illustrazione di una card che troveremo all'interno. Qui la linea Spawn dei Classi Comic Covers, la serie 25. Qui un'altra bella immagine del nostro Critch presa proprio dal fumetto, guardate che meraviglia. E dietro c'è anche una piccola checklist con altre figure appartenenti alla stessa serie. Io direi di non indulgiare oltre, passiamo direttamente a vedere il nostro Critch da vicino. Ed eccolo qui in tutto il suo splendore, credo sia una delle figure più belle prodotte dalla McFarlane. Qui ci sono dei dettagli veramente sorprendenti, ragazzi, veramente fantastici. Soltanto questi tentacoli qui che possiamo posare come vogliamo, perché alcuni di loro hanno un'anima di fil di ferro. Questa è già una cosa eccezionale, ragazzi, veramente strepitoso. Guardate che meraviglia. Allora, lo avviciniamo. Intanto vediamo questo volto, che l'idea che dà a me è come se voglia in qualche modo questa testa uscire per forza dal corpo che la imprigiona. Vedete come sembra strappando tutta la pelle per uscire. Comunque eccola qui. Vediamo il dettaglio della bocca aperta. Gli occhi di questo colore arancio, bordati di rosso. Guardate che bel lavaggio di nero che va a riempire tutte queste crepe, tutte queste venature scolpite sul corpo. Questo verde ha diverse tonalità, quindi non è per niente piatto. Ci sono varie tonalità di verde. È veramente eccezionale. Qui abbiamo questo braccio di quest'altro colore, color carne. Qui come vedete strappato per l'inserzione di questa parte meccanica. Lui è una creatura, come abbiamo visto, biomeccanica, quindi ha parti biologiche, parti meccaniche, elettroniche. Veramente fantastico. Le mani qua mi ricordano un po' sia le mani che i piedi mi ricordano un po' la Hulkbuster. Che ne dite? Queste mi sembrano le braccia di Hulkbuster. Comunque vabbè andiamo avanti. Allora intanto lo rimuoviamo da questa basetta perché mi sta dando un po' fastidio. Dopo la vediamo. Allora la figure come vedete è un pre-pose, quindi una posa già impostata con pochissime articolazioni come standard McFarlane. Comunque devo dire ragazzi che anche la posa è veramente, veramente figa. Allora continuiamo a vedere i dettagli. Qui ci sono altre parti di sembra vegetazione qui su questo braccio. Guardate che livello di dettaglio questo painting. E qui anche qui la parte strappata dove si vede la parte meccanica è realizzata veramente molto bene. Le parti qui meccaniche sono a dir poco strepitose. Guardate che dettagli ragazzi. Guardate che dettagli. Guardate che che painting è molto molto curato su questo cannoncino. Qui vediamo questo gunmetal sporcato di nero. Anche qui ci sono delle varie sfumature che vanno a imbecchiare, a rovinare queste parti metalliche. Qui abbiamo il dettaglio di questi led. Credo vogliono rappresentare dei led di colore arancio. Le dita. Guardate anche le dita che livello di dettaglio. Queste poi sono anche tutte articolate. Molto delicate. Quindi queste vanno maneggiate veramente con cura. Già per sbloccarle ho sudato non poco. Si rompono soltanto a guardarle. Anche qui sul petto abbiamo quest'altri due componenti elettronici di questo color giallo. Vedete arancio giallo rosso. Quest'altro avambraccio è identico all'altro. Quindi stessa e medesima cosa. Qui vediamo la cintura. Questa cintura di questo color azzurro metallico. Come vedete con tutti questi dettagli qui. Questi fori con questo color arancio all'interno. Qui la camera non sa cosa mettere a fuoco. Sto avvicinando troppi elementi. Comunque anche le gambe sono dello stesso colore del corpo. Quindi un altissimo livello anche qui di dettagli. Le ginocchiere sempre di questo color azzurro metallizzato. Ed infine la parte dei piedi diciamo di questi stivali. Stessi dettagli che abbiamo visto qui sugli avambracci. Quindi tutte queste pannellature meccaniche che come vedete si intersecano a queste altre parti qui di questo color gunmetal. Veramente eccezionale. Veramente eccezionale. Anche sotto vediamo questa specie di razzi. Vedete? Fantastico. Anche sotto continuano i dettagli. Ci sono i fori ovviamente per attaccarlo alla basetta. Eccezionale ragazzi. Guardate i tentacoli. Guardate che meraviglia. Allora come dicevo alcuni sono posabili. Altri no. Questi non si possono posare. Sono senza l'anima di fil di ferro. Quindi rimangono giù sulla schiena. E questi possiamo metterli come vogliamo. Fantastico. Vediamo velocemente questa basetta. Allora. Qui. La basetta è realizzata molto bene. Guardate anche qui quanti dettagli di painting. Sembra roccia vera. Un lavoro veramente eccezionale anche su questa base. Guardate qua. Nero grigio. Fantastica. E poi come dicevo nella scatola c'è anche questa card. Anche molto grande devo dire. Che ritrae il nostro cric in una sequenza del fumetto. The Kratos Lose. Fantastica. Ecco qua. Allora. Vediamo le articolazioni che come detto sono veramente poche. Comunque qui abbiamo una rotazione al braccio. E basta per quanto riguarda questo braccio. Mentre invece quest'altro oltre alla rotazione possiamo anche aprirlo e chiuderlo un po'. Poi abbiamo la rotazione qui dell'avambraccio di tutto questo quanto per capirci. Può anche come vedete fare questo spostamento verso l'interno e l'esterno. Le dita sono tutte articolate su sfera. Quindi ognuna di loro ha un'articolazione a sfera. Qui abbiamo questa rotazione qui alla gamba. Abbiamo la rotazione della vita. Quest'altra gamba anche può ruotare in questo modo. Ma sono tutte articolazioni ragazzi che non ci servono praticamente a nulla. Soltanto questa qui alla vita e alle dita con l'avambracci sono utili. Qui da parte dei stivali un pochino ma giusto per aggiustare la posa sulla base perché sennò è quasi costretta alla sua base questa figure. Perlomeno per farla tenere senza la base dobbiamo lavorarci un bel po'. Comunque qui c'è questa articolazione come dicevo alla gamba, allo stivale. Può fare questo spostamento qua e lo stesso di qua. E niente di più. Vediamo quanto è alto il nostro cricce. Non è eccessivamente alto perché come vedete la figura ha una posa molto ingobbita. Comunque dai alla testa stiamo sui... no alla testa, qui alla schiena stiamo sui 18 cm. Mentre invece è molto largo. Come vedete stiamo sui... apertura a braccia sui 20 cm. È molto massiccio, è molto pesante. È fantastico ragazzi. Vi faccio fare un ultimo giretto. Guardate da voi che meraviglia questa figura. È qualcosa di fenomenale. Bene ragazzi si chiude qui anche questa recensione. Spero sia stata di vostro interesse. Se così fosse lasciate un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, condividete questo video, commentate, fatemi sapere più che altro cosa ne pensate. Ricordatevi che all'interno del canale c'è in corso un giveaway che si sta per chiudere quindi avete ancora pochissimi giorni per partecipare. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti da Emiliano e dal Cricci. Ciao a tutti.